Allora, l'ultima volta era presidente di giuria Monte Carlo, eh? Te lo ricordo. E adesso Raul Bova è tornato all'Hotcorner. Come stai Raul? Bene, bene. Tu? Bene, bene. Tutto bene, tutto bene. Ricordo bene quei giorni in cui giudicavi i film. Che bello. Bellissimo. Senti, all'Hotcorner per parlare di un ritorno, in questo caso, perché tu ritorni al cinema questa volta, dopo quattro anni dicevi, no? Dopo quattro anni, sì, c'è stato in mezzo, ovviamente, quello che sappiamo, degli anni difficili per il cinema, quindi è stata molto più presente le serie televisive, insomma, che sono uscite quest'anno, quindi è andata anche molto bene, sono contento, però, insomma, il cinema, ritornare al cinema è stato, quando c'è stata l'opportunità, la richiesta, anche di una commedia molto interessante. Esatto, parliamo che è The Christmas Show. Cos'è The Christmas Show? È una commedia molto bella, natalizia, che parla del Natale, parla di chi lo vive in maniera, insomma, agiata, chi invece è una famiglia povera e lo subisce, cioè chi ama il Natale, chi lo odia, perché comunque ricorda, ovviamente, persone che non ci sono più e quindi c'è questa famiglia che di solito non lo festeggia e il mio personaggio, che è uno scrittore che non esce di casa da quattro anni, perché comunque è lì che scrive il suo romanzo, ma non trova mai la fine, guarda dalla finestra e si ispira a questa famiglia, la guarda, la osserva e piano piano questa famiglia ha l'opportunità di partecipare a una specie di grande fratello che riguarda il Natale, quindi la figlia di questa famiglia, che è di Serena Autieri, la mamma, la figlia iscrive, diciamo, questa famiglia ha questa possibilità di partecipare allo show. Vengono scelti, quindi entrano un po' come, ripeto, come il grande fratello ha in questa famiglia e li organizzano ovviamente con tutte le luci, con tutto il Natale, cioè famiglia povera, ovviamente famiglia povera che subisce proprio l'ostentazione del Natale, cioè proprio con i grandi pacchi, grandi alberi, grandi... La neve pure, no? Sì, neve, tutto finto, tutto ricreato, capito? Quindi e da lì loro devono superare un certo gradimento del pubblico e se vincono, vincono anche una certa cifra, una certa somma che potrebbe risollevare ovviamente i debiti di questa piccola famiglia. In tutto questo, ecco, c'è il mio personaggio che racconta questa storia, racconta... Ah, tipo un narratore proprio... Sì, beh, c'è proprio... Diciamo che questa è la storia di un libro che sta scrivendo il mio personaggio. Ah, che si scrive mentre succede le cose. Che però entra dentro la casa perché vuole aiutare questa famiglia a vincere o comunque, diciamo, che si innamora anche di questa donna perché la vede triste, riconosce una tristezza che è anche la sua e insieme riescono a superare appunto questi questi momenti tristi del Natale e a godere finalmente di una vita felice. Che bello. Senti, che rapporto hai tu con il cinema invece? Poi ce n'è un altro film che uscirà e di cui parleremo dopo. Ma per te cos'è il cinema? Io ricordo una cosa che facevamo durante il lockdown in cui tu parlavi di una giornata particolare con un rispetto quasi religioso di un'esperienza cinematografica. Sì. Ti ricordi la prima volta che è stato folgorato al cinema? In sala che hai detto, ah, questo è. Sì. E ci feci anche un tema alle elementari. Ah. A parte che mi ricordo il tempo delle mele comunque. Certo. Io ancora ero molto piccolo, quindi l'avevo visto. Sì. E non avresti dovuto vederlo? No, sono entrato un anno prima perché ho 13 anni. Sì, per il tempo delle mele. Sì. E poi il cinema ha rappresentato un po' la mia... inconsciamente le mie storie entravano... riuscivo da bambino a prendere quello che pensavo fosse anche mio, oppure fosse anche una mia speranza, un mio desiderio, un mio sogno. E talmente tanto che, ripeto, adesso non mi ricordo esattamente il film che avevo visto, ma scrissi la trama proprio di quel film, come se fosse mia. Ah, cioè tipo vita parallela praticamente. Sì, esatto, esatto. Cioè mi era entrato veramente tanto dentro il concetto del film che l'avevo fatto mio. E credo che spesse volte ecco, sia per me che per lo spettatore è un po' una proiezione di quello che viviamo, di quello che vorremmo vivere, di quello che non vorremmo vivere. Quindi ci confrontiamo anche con realtà che dici, ok, ho visto anche cosa può succedere nella vita, quindi sono fortunato ad avere quello che ho. Ma tu senti mai questa responsabilità quando interpreti un ruolo? Cioè tu sei sentato molto popolare, c'è gente poi che ti ferma e ti dice grazie a quel film, grazie a quella cosa. Guarda, riesco... Cioè c'è un'utilità proprio, come un falegname fa una cosa, no? In realtà poi un film può salvare la vita anche. Sì, 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 ma questo te ne accorgi dalle persone che ti fermano e ti dicono quanto è importante il lavoro che hai fatto, quello che rappresenti per loro, che lì per lì ti sembra a te quasi strano, no? Dici ma come mai? Però inconsciamente con i ruoli che fai, con anche una coerenza artistica, diciamo, anche con il cambiamento, con il prendersi non troppo sul serio, ma affrontando anche temi importanti. La gente si medesima, comunque sente che sei... hai risolto un problema, comunque gli hai acceso una luce, forse gli hai acceso una speranza. Sì, o gli hai indicato una via, no? A volte c'è anche chi vede un film e dici, ah, potrei... Non, mi è capitato molto con Ultimo, per esempio tanti carabinieri mi hanno detto, io sono diventato carabiniere perché ho visto Ultimo. Ultimo, pazzesco. Sì, ma tanti, veramente tanti, ragazzi ovviamente che ti fermano e ti dicono, l'ho fatto proprio perché volevo, avevo in mente quella... Che fantastico però, perché c'è nel senso... Sì, ti senti veramente toccato da... Sì, è la tua professione da una cosa poi concreta, che c'ha un riscontro immediato bellissimo. Sì, sì. Senti, qual è il tuo film da Isola Deserta invece? Una giornata particolare? Quello che ti porteresti... Beh sì, sì, quello lì per me... Intoccabile. Bellissimo, racconta veramente tanto, racconta una Roma, insomma, passata, raccontata dei temi importanti da cui siamo usciti, insomma, del dopoguerra e quindi... Con quei due attori là. Con quei due attori, Sofia Loren e Marcello Mastroianni che vivono appunto questa vita. Caso strano c'è sempre questa... Mi ritorna nella mia vita questa idea dei dirimpettagli, no? Cioè, comunque vivono nello stesso... Ah, è il stesso, certo. Anche loro vivono nello stesso palazzo, si incontravano... Si incontravano e quindi si innamoravano l'uno dell'altro. Ma infatti a me... Guarda, sono anche spettatore, spesso del cinema, ma... Mi è successo una volta di trovarmi a Londra e avere un palazzo di fronte con tutte le stanze che erano visibili, no? Ah, quindi tutte le finestrelle illuminate. Tutte le finestrelle illuminate e ti perdevi un po' nell'immaginazione di quella famiglia, perché comunque si vedeva tutto, poi non puoi guardare, per verità, non puoi fare... Il voyeur, però. Il voyeur, però, vedevi, lui che andava nella stanza a letto, poi andava in cucina, poi prendeva il vino, poi parlava con lei, poi c'è chi sotto invece, al piano di sotto, invece litigava, chi invece stava con il bambino che lo cullava, quindi un po' la rappresentazione di una vita, di tutto quello che riguarda una vita. Che tra l'altro François Ozon ci ha girato pure un film bellissimo, nella casa con Fabrice Lucchini, dove c'è proprio questa scena. Esatto, esatto. Il prossimo film dove ti vedremo invece qual è dopo The Christmas Show? Che è 2023, però, questo, giusto? Sì, uscirà adesso a novembre, il 17 novembre, The Christmas Show, e invece l'altro, diciamo che starà intorno tra dicembre e gennaio, probabilmente... Di cui puoi dire o non puoi dire? Si chiama Greta e le favole vere, sì, è un... Un film bellissimo che parla di questo... Il mio personaggio è una persona che crede nella salvezza del pianeta. Ah, quindi Greta nel titolo è quella Greta. Greta è quella Greta. È in Greta Tuberga. Mia figlia è una fan di Greta e quindi porta avanti... Ah, quindi fa parte di Fridays for Future e tutto il movimento. Esatto, esatto, che combattono per la salvaguardia del pianeta e prende come spunto appunto delle persone che uccidono un orso e vogliono prendere le pelli, quindi questa bambina cerca di evitare questa cosa. Ed è bello perché mette a confronto la generazione di oggi che è molto attiva, è molto forte sulla... Molto consapevole. Molto consapevole e con la nostra, che è una generazione che è stata affascinata dal green, dal salviamo il pianeta, facciamo qualcosa per... Dall'acqua, ti ricordi che comunque abbiamo iniziato al... Sì, sì, da tantissimi. ...al riciclo dei rifiuti, alla divisione dei rifiuti tra plastica, vetro e... Però poi, diciamo, all'atto pratico non si è mai... Ci abbiamo mollato, sì, abbiamo incontrato degli altri. Sì, siamo rimasti un po' disillusi fondamentalmente perché non c'è stato un intervento vero. E quindi questa ragazza, piano piano, riesce a riportare il padre, il mio personaggio, sul... A crederci ancora, diciamo. Esatto, crederci ancora e questo papà si convince, diceva, ok, era molto cinico, molto... Insomma, disincantato. Disincantato e alla fine, insomma, si riuniscono loro, padre e figlia, combattono insieme per il pianeta. Perfetto, perfetto, perfetto. Molto bello. Senti, Raul, per chiudere l'ultima cosa, il giochino che facciamo sempre qua. Sì. Stasera, prima di andare a dormire, ti suona il telefono, lo prendi e c'è il nome di un regista che ti chiede di lavorare con lui. Chi vorresti che fosse? Ah, eh, bella domanda. Può essere chiunque. Italiano o... Chi vuoi, chiunque può essere. Beh... Non lo so, non mi sono mai fatto questa domanda. Ah, per questo che c'è l'Hot Corner. Perché fondamentalmente è bello quando un regista ti chiama perché ha un'idea su di te, vede in te un personaggio. Quindi, sai, piacerebbe lavorare ovviamente con Ferzan, a rilavorare con lui, con Muccino, con tanti altri italiani e tanti stranieri. Però, ecco, credo che sia importante la visione del regista. Ah, ok, quindi ti fai sorprendere, diciamo. Sì, 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 credo più che il regista deve vedere in te la possibilità di un personaggio. Ah, cioè, quindi più tu che scegli lui, è lui, cioè ti affidi di più alla chiamata sua, insomma, diciamo. No, guarda, non è tanto il regista perché può essere, io qui lo dico e qui lo nego, mi è capitato di non fare, diciamo, quasi mai fare un'opera prima. Quindi alla tua domanda rispondo un regista che ti propone un ruolo, che c'è un'idea chiara. Quindi anche uno sconosciuto chiama e c'è Raul, c'è il progetto perfetto per te. Esatto, esatto. Allora sarà là fuori, lo sconosciuto chiama Raul che poi ci vediamo qui. Raul Bovalot Corner, grazie Raul. Grazie a te.